Romina Carrisi prende le distanze da Albano e Loredana, in tv divisi Si chiama clausola Romina ed è una delle condizioni imposte dalla power a chiunque, in tv, intenda ospitarla. E' noto a tutti che i rapporti tra Albano e Romina non sono sempre stati dei migliori. Adesso, tuttavia, la stia pare essersi esteso a tutti i membri della famiglia Carrisi, compresa Loredana Leccise. Sembrerebbe infatti che la figlia del cantante, nelle sue ultime ospitate in tv, abbia imposto la clausola Romina, condizione necessaria per assicurarsi la sua presenza in televisione. . Ma di cosa si tratta precisamente? Romina Carrisi per contratto impegnerebbe la trasmissione che la ospita a non invitare, nei 60 giorni successi alla sua comparsa, altri membri della famiglia Carrisi nello stesso programma. . Cosa ha spinto Romina a stabilire questi vincoli? Così facendo chi vuole colpire? Ma soprattutto, è forse questo un chiaro attacco a Loredana Lecciso e Albano?. . Romina Carrisi contro Loredana Lecciso e Albano?. . Secondo le male lingue questa è sicuramente una mossa studiata appositamente da Romina Junior per primeggiare rispetto al resto della famiglia. . Così facendo infatti la figlia di Albano e Romina Power avrebbe la sicurezza di essere lunica protagonista della scena. . Dal momento in cui mette piede in televisione, e per i 60 giorni a venire, i riflettori sarebbero puntati solo ed esclusivamente su di lei. . Nello stesso programma, in questo modo, nessuno dei membri della famiglia Carrisi, e dunque anche Loredana Lecciso, avrebbe diritto di replica. . I rancori passati con la famiglia sembravano essere svaniti definitivamente ma adesso, alla luce di ciò, per quanto i loro rapporti continueranno ad essere pacifici?. . Loredana Lecciso e i rapporti con Romina Power. . . Loredana Lecciso, nellultima intervista rilasciata alla D'Urso a Domenica Live, aveva anche parlato della mamma di Romina Carrisi e dei rapporti con Albano, il padre. . . Lei e la Power sarebbero molto diverse tuttavia, come dalla stessa ha affermato, non si è mai sentita in diritto di giudicare il passato dell'ex moglie di suo marito. . . .